Aria di burrasca in casa del Fessevellino. La sconfitta, subita tra le muramiche anche contro il Cus Taranto, ha fatto storcere il naso ed ha provocato malumore nell'ambiente. Come se non bastasse c'è anche il caso Norman Hassan, il cui infortunio potrebbe rischiare di far tornare Avellino sul mercato. Uno dei dubbi maggiori riguarda anche l'area tecnica. La sconfitta contro il Cus ha portato sul banco degli imputati anche il tecnico Rodolfo Robustelli. Al termine del match, lo stesso coach si è confrontato con il consulente Antonello Nevola per capire il quale modo per rimettersi in carreggiata. Il presidente della Delfast, Gennaro Canonico, ha scartato l'ipotesi di un esonero, anzi il massimo dirigente ha deciso di rinnovare la fiducia al coach. A Ragusa, a guidare il team, sarà comunque l'attuale capo allenatore che dovrà fare certamento a meno di Hassan. L'italo Somalo ha riportato un problema allo zigomo. Ieri è stato visitato da uno specialista il quale ha comunicato all'atleta di dovesse sottocorre ad un intervento chirurgico. Oggi al cestista e dalla società sarà comunicata l'atleta dell'intervento che, presumibilmente, avverrà in settimana. Hassan, per quanto sfortunato, tira un sospiro di sollievo. Il rischio di concludere anzitempo la stagione è stato escluso. Purtroppo il giocatore sarà costretto a saltare il prossimo impegno e probabilmente anche la gara di domenica 7 novembre contro Salerno, un derby sentito per la società bianco-verde.